spazzolando i capelli sta ganando la polpebra oppure no? questo qui sticcoli da hai mai visto questa crescita non riesci a dormire? vedo certe occhiaie, da quanto tempo non dormi? sì, anche io ultimamente sto dormendo poco ma dimmi piuttosto, c'è qualcosa che posso fare per te? sono qui per aiutarti, aiutarti a dormire ok, va bene, ci penso io, ti farò dormire io, non ti preoccupare stai sereno, non ti preoccupare tu, 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 tu devi solo fidarti di me allora hai mai visto questa crescita? io l'adoro 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 il suono dell'acqua va sempre a rilassare poi volevo farti ascoltare questo, il diapason le sue frequenze riescono a rilassare la mente vuoi provare? lo avvicino alle tue orecchie senti le vibrazioni senti le vibrazioni poi ti faccio poi ascoltare un altro suono rilassante questo qui è 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 un'altra cosa che aiuta tanto a rilassarsi e a dormire sono gli squisci un'altra cosa che non mi piaceva, non mi piaceva, non mi piaceva, non mi piaceva, non mi piaceva sta calando la palpebra oppure no? piccoli dolci suoni rilassanti poi ti aiuto a dormire anche spazzolando i capelli non mi piaceva, non mi piaceva, non mi piaceva, non mi piaceva non mi piaceva, non mi piaceva, non mi piaceva allora ti trovo un po' più sonnato rispetto a prima beh credo che adesso il mio compito qui per ora è terminato se vorrai torna a rilassarti buonanotte